Ciao a tutti, benvenuti nel canale di Accademia dei Test. Oggi parleremo di implicazioni logiche, semplice e doppia. Date due proposizioni P e Q, chiamiamo implicazione materiale, il nuovo connettivo, di antecedente P e conseguente Q, la proposizione che si ottiene congiungendo P e Q con il connettivo se, allora. Si indica con questa freccia, che parte da P e arriva a Q, e il connettivo si leggerà se P, allora Q. La proposizione P prende il nome di premessa, mentre la proposizione Q viene detta conseguenza. La proposizione P implica Q, cioè l'implicazione, è vera sia quando sono vere sia P che Q, sia quando P è falsa, in quel caso senza nessun problema, cioè indipendentemente dal valore di verità assunto da Q. Quindi sia quando Q è vera, sia quando Q è falsa, se la premessa P è falsa, l'implicazione sarà vera. Dal punto di vista puramente logico, per attribuire un valore di verità a questa implicazione non è importante che P e Q siano collegate anche dal punto di vista semantico, cioè del significato. La cosa importante è, come al solito, che possiamo attribuire un valore di verità certo a P e un valore di verità certo a Q. Anche in questo caso vediamo la tavola di verità. Quindi abbiamo le solite colonne con P e Q, con i loro valori di verità, e poi l'implicazione. Come abbiamo detto, quando P e Q sono entrambe vere l'implicazione è vera, quando P è vera e Q è falsa l'implicazione è falsa, mentre invece quando P è falsa l'implicazione è vera a prescindere dal valore di verità assunto da Q. Analizziamo i casi che si possono presentare. Allora, se P e Q sono entrambe vere, l'implicazione è vera, lo abbiamo detto. D'altra parte è coerente. Oggi è bel tempo, vado al mare, ho mantenuto la parola data. Se invece P è vera, ma Q è falsa, l'implicazione è falsa. Anche questo lo abbiamo detto. E in effetti anche questo ha senso. Oggi è bel tempo, se non vado al mare, ho mentito, ho tradito la mia parola. E di conseguenza questo tradimento viene rispecchiato dal valore di verità dell'implicazione che sarà falso. Quando invece è la premessa che viene a mancare, cioè quando la premessa è falsa, cioè se in questo caso oggi è brutto tempo, la conseguenza non è più importante, perché la mia affermazione era stata se oggi è bel tempo vado al mare, ma oggi è mal tempo per cui posso andare al mare, posso rimanere a casa, posso fare quello che voglio, in ogni caso l'implicazione sarà vera. Un altro connettivo è la doppia implicazione. Date due proposizioni P e Q si chiama doppia implicazione la proposizione che si ottiene collegando P e Q attraverso il connettivo se e solo se. Si indica con questo simbolo una doppia freccia, quindi con la punta da entrambi i lati, sia dal lato di P che dal lato di Q, e si legge P se e solo se Q. La proposizione P se e solo se Q è vera se entrambe le proposizioni sono vere, ma è vera anche se entrambe le proposizioni sono false. Cioè la doppia implicazione è vera quando P e Q hanno lo stesso valore di verità. In maniera analoga a quanto succede per l'implicazione semplice non è importante che P e Q siano collegate dal punto di vista semantico. Certo, magari per comprendere meglio gli esempi può avere senso che lo siano, ma in generale la logica non guarda questo. La cosa importante, come prima, è che a P e a Q sia possibile attribuire un valore di verità, e cioè che siano delle proposizioni semplici oppure composte. Anche in questo caso la tavola di verità della doppia implicazione ci mostra quello che abbiamo detto a parole. Quando P e Q sono entrambe vere, la doppia implicazione è vera, primo rigo. Quando P e Q sono entrambe false, la doppia implicazione è ancora vera, ultimo rigo. Mentre invece nelle righi centrali vediamo che quando P è vera e Q è falsa, la doppia implicazione è falsa. Quando P è falsa e Q è vera, la doppia implicazione è ancora falsa. Per questo argomento è tutto, nel prossimo video parleremo di implicazione inversa, contraria e contronominale.